Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì, primo novembre 2023. Oggi parliamo della perdita di qualsiasi senso del limite che caratterizza la classe dirigente israeliana, come si evince sia dal tipo di campagna militare che l'Israeli Defense Force sta portando avanti, sia della retorica di tipo escatologico e di stampo vetero-testamentario che la Leadership Teraviv sta adottando per legittimare sul versante sia interno che esterno il proprio operato, con tutte le naturali implicazioni di carattere politico. Trattiamo tutto questo assieme a Vincenzo Costa, che è professore ordinario presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano e saggista, è autore di numerosissimi volumi, ricordo solo alcuni, Psicologia fenomenologica, forme delle esperienze strutture della mente, è edito da Morcelliana nel 2018, Heidegger è edito da Morcelliana nel 2022 e la salute e la storia, l'Europa a venire a partire da Husserl, è edito da Morcelliana nel 2023. Io Vincenzo ti ringrazio innanzitutto per aver accettato il mio invito. Grazie a te Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Partire innanzitutto da quello di cui abbiamo accennato, cioè si assiste a un bombardamento, diciamo, non saprei si definire indiscriminato, ma comunque intensivo sull'intera striscia di Gaza, che è stato preceduto da un blocco della striscia e da un ultimato, un di 24 ore, che è stato avanzato dal Ministero della Difesa israeliano, che avrebbe, in base al quale un milione circa, oltre un milione di palestinesi residenti nel nord di Gaza, sarebbero dovuti spostare verso sud. Naturalmente tutto questo ha avuto delle… e a tutto questo ci ha accompagnato, come dicevo, una retorica piuttosto impressionante, perché comunque noi siamo abituati a considerare Israele un paese occidentale, ma invece qui è tutto un proliferare di riferimenti alla Torah, alla profezia, alla realizzazione della profezia di Isaia, alla lotta contro gli amaleciti, per cercare comunque di compattare, mi pare, da parte di Netanyahu la popolazione israeliana. Tutto questo però ha un costo, sia in termini militari, sia in termini politici e diplomatici, perché Israele mi sembra che stia un po' perdendo il favore che molto meticolosamente era riuscito a tenere un po' in giro per il mondo. Tu sei di questa opinione? Sì, innanzitutto qualcosa su questa questione culturale che tu dicevi, e che riguarda quella che si chiama anche cultura ebraica, che secondo me noi faremmo male a considerare un blocco unitario, perché la cultura ebraica, come ogni altra cultura, la cultura occidentale non è un'identità rigida, è un campo di tensioni. Tanto per fare un esempio, Martin Buber non è Emanuele Levinas, su questioni decisive. Levinas non è Cohen, proprio sull'importanza Martin Buber e Cohen erano agli opposti, proprio sulla nozione di Stato, con Cohen che considerava la legge, lo Stato, il compimento del genere umano, e Martin Buber che invece è notoriamente un campo di tensioni. Ora, questo campo di tensioni in questo momento sta assumendo una forma particolare. La forma particolare è che tutto quello che è la tradizione ebraica, che sia sviluppata in Occidente, e quindi tutta la tradizione novecentesca, sempre sia stata completamente dimenticata di Israele. Cioè la portata universalistica che l'ebraismo aveva assunto con gli autori che ho citato prima, sembra essere stata dimenticata, era una tradizione in cui si era liberati da una vecchia mitologia e anche, se mi permettete, anche da un insieme di superstizioni, perché l'idea che l'identità venga trasmessa attraverso il sangue, quindi con una sorta di discendenza, questa, ovviamente noi dobbiamo rispettare ogni cultura, io rispetto anche la cultura apache, la cultura algonchina, quindi rispetto anche la cultura ebria, tuttavia credo che non possiamo che considerarlo un frutto di superstizione, una superstizione che non ha nulla da invidiare rispetto a quella che ha la superstizione che sta alla base di regimi come quello che c'è in Iran, è una cultura che non ci appartiene, una cultura di uno stato etnico, una cultura che non appartiene all'Occidente. La cosa impressionante è che questa sembrava essere una cosa residuale all'interno di quella tradizione che invece adesso viene ripresa con toni molto accesi da parte del gruppo dirigente di Israele, che sembra richiamarsi non più, e questo è il punto politicamente rilevante, non più alle leggi internazionali, non più alle leggi che come genere umano oggi ci diamo, quindi che è fatto di risoluzione dell'ONU, di legge a cui tutti quanti, tutti gli stati sono tenuti ad adeguarsi, ma sembra ormai richiamarsi a leggi, a qualcosa che è completamente al di sopra di tutto questo. Questa è una cosa che poi ha avuto anche, secondo me, un aspetto che non è solo simbolico, perché è un aspetto politico, c'è questa cosa dell'etnia, quando Blinken va in Israele e dice ma io non sono qua soltanto come rappresentante degli Stati Uniti, come segretario della difesa, io sono qui anche come etnicamente. Ora, questa cosa praticamente secondo me è una cosa che noi abbiamo fatto passare, ma è una regressione culturale non soltanto in Israele, è una regressione culturale in tutto l'Occidente. Io potrei dire, essendo siciliano, che etnicamente con molta probabilità sono arabo. È abbastanza probabile che io abbia un'eredità. Quindi cosa facciamo? Facciamo, ci dividiamo per etnie? Cioè, questa è una regressione ancora peggiore rispetto all'aspetto tribale. Ora, che l'Occidente, che doveva essere la punta della razionalità, si caratterizzi per questa regressione, non soltanto all'aspetto tribale, ma all'aspetto etnico, all'aspetto del sangue. Cioè, che noi abbiamo criticato nel nazismo l'idea di sangue e terra, ma quella idea del sangue c'è. Cioè, l'idea che qualcosa si costituisca e questo è anche un problema in stato di Israele, in cui l'aspetto etnico, nella Costituzione di quello Stato, ha un peso eccessivo. Questo è un po' la situazione che si è creata. In questo, dal punto di vista culturale, ovviamente non direi che questa sia la causa del problema. Con tutta probabilità questo è il tentativo di dare una veste, in questo caso anche abbastanza, per così dire, fatta male. Un tentativo di costruire un'egemonia, di legittimare una cosa che probabilmente è completamente indipendente dalla Torah, è completamente indipendente dalla religione. Cioè, si sta cercando di far passare come guerra di religione una cosa che non ha i caratteri della guerra di religione, anche perché la maggior parte della popolazione ebraica non è religiosa, però mantiene questa idea di etnia. Questo è un problema. Quindi non credo che siamo davanti, la prima cosa che voglio dire, secondo me non siamo davanti a uno scontro di civiltà. Siamo davanti al tentativo di dare connotati di scontro di civiltà, quindi di nobilità. È una cosa che è molto più selvaggia, più brutale. La cosa brutale e selvaggia è che sono state uccise 7.000 persone, di cui il 70% donne e bambini. 4.000 bambini. Questo non è soltanto un problema che riguarda Israele, che di questo dovrà rispondere, perché questa cosa non può essere dimenticata. Come non possiamo dimenticare la Shoah? Cioè, bisogna stare attenti. Non è una cosa perché nella Shoah è successo qualcosa di terribile, di cui dobbiamo fare memoria, ma anche questa è una cosa che in 15 giorni 7.000 persone, di cui 4.000 bambini, non è una cosa che potrà essere dimenticata. Detto questo, in che direzione si va? Questa è una questione un po' nuova, ma a questo punto darei la parola a te, altrimenti faccio un monologo. No, no, ma figurati. È interessante notare come Blinken, a cui facevi riferimento, sia stato segretario di strada degli Stati Uniti, sia stato ridarguito in maniera piuttosto anche sferzante da Erdogan, che è un vecchio volpone della politica, di cui si può pensare quello che si vuole, ma sicuramente ha una sua intelligenza politica, che gli ha detto è come se io andassi a Gaza e mi definissi, sono qui anzitutto come musulmano, prima che come presidente turco. Io voglio sentire la tua opinione in merito proprio a questo. Cioè, tu credi che assumendo posizioni come questa, che non sono nuove, sono d'accordo sul fatto che questo sia un ulteriore scadimento, la presa di posizioni di Blinken, indichi uno scadimento successivo. Ma noi abbiamo visto una regressione della capacità diplomatica, ricordiamo che l'Occidente, l'Europa, innanzitutto, ma anche gli Stati Uniti, aveva, sono state grandissime potenze non solo militari ed economiche, ma anche diplomatiche, perché comunque nel bene e nel male sono riuscite a definire alcuni aspetti anche in maniera diciamo di lungo periodo. Adesso agli occhi del resto del mondo, così di posizione come questa, o il fatto di essersi completamente, fin dall'inizio, scrivati da una parte, subito da una parte, quindi senza cercare minimamente di vedere se ci fosse la possibilità di accreditarsi come mediatori, che è quello che la politica dovrebbe fare. Questo credi che comporterà una, proprio veramente, una perdita di credibilità da parte dell'Occidente agli occhi del resto del mondo? Grazie Giacomo. Io temo che non è che provocherà la già provocata, nel senso che se uno vede un po' di siti o di telegiornali accessibili in lingua inglese, che noi non conosco il cinese per esempio, non conosco l'arabo, però c'è anche un Al Jazeera in inglese, esistono delle fondi di informazioni. La prima cosa che salta agli occhi è che innanzitutto tutto il resto del mondo sta vedendo una guerra diversa da quella che vediamo noi, molto diversa, le immagini che circolano sono diverse, c'è un paradosso, io stesso per trovare informazioni che non trovo sui canali occidentali, li trovo attraverso canali di quelli che vengono chiamati autocrazie. Questo è un paradosso, è un paradosso che un cittadino di uno stato presunto democratico, dove voglio ricordare che la democrazia non può esistere senza una sfera pubblica plurale e senza un sistema mediatico plurale che permetta la circolazione delle informazioni, perché la democrazia non è soltanto la maggioranza, la democrazia è la possibilità di formarsi un'opinione informata. Che i cittadini occidentali abbiano la possibilità di formarsi oggi un'opinione informata e anche riflessiva, di questo possiamo iniziare ad avere molti, molti dubbi. Quindi questa è una prima cosa. In questo contesto l'Europa c'è una grande discussione, fine dell'Europa, tramonto dell'Occidente, alcuni dicono sì, si sta avverando quello che un secolo fa era stato già enunciato come tramonto dell'Occidente ed è qualcosa di inesorabile. Io non credo che le cose siano così, non credo che siamo al tramonto dell'Occidente, credo che l'Europa abbia una funzione. Perché credo questo? Perché non credo nel determinismo storico, di qualsiasi naturalezza sia. Non credo in un determinismo teleologico in cui tutto il mondo deve diventare europeo, che è la narrazione rolsiana, per esempio, o abermasiana, cui l'Occidente rappresenta la punta avanzata, tutti gli altri non possono che desiderare. Questa era la narrazione degli anni 80, 90, sino a qualche anno fa. Però non credo neanche in quella invece di un tramonto inesorabile. La storia è fatta di circostanze, è fatta di contingenze. Le contingenze significano le decisioni politiche. Cioè l'Europa può avere un ruolo. Non è destinata al declino, ma il declino è una possibilità aperta. Dipende dalle scelte politiche, economiche e anche culturali che in Europa si faranno. La scelta che si è fatta in questo momento è di un suicidio neanche tanto assistito. Cioè l'Europa ha abdicato a qualsiasi ruolo di mediazione. Non vorrei banalizzare, perché problemi politici internazionali non sono mai riducibili a problemi psichici, ma la von der Leyen è molto padrona dei suoi nervi. Cioè dall'aspetto di una persona in cui i nervi gli sono passati, gli sono sfuggiti di mano. Le sue esternazioni sono così tra il fanciullesco e l'isterico. Ricordo, fino alla vittoria in Ucraina, qualsiasi persona di normale buonsenso. Capiva che non era una cosa... Adesso qui invece va subito in Israele a... Saremmo sempre con voi e persino Borrell. Persino Borrell dice, ma signori miei, un pochino più di calma. Allora il problema è un'Europa che non esiste più da un punto di vista politico. La questione è non può più esistere o è semplicemente una contingenza storica? Io penso che sia una contingenza storica. Se avessimo avuto una classe dirigente, ci abbiamo avuto la peggiore classe dirigente europea che si poteva avere in un momento storico in cui era necessario averne un altro. Dico banalmente una cosa, si può discutere o meno, ma se avessimo avuto Prodi come oggi a capo della Commissione, probabilmente sarebbe stato un pochino diverso. Non dico che si sarebbero fatte grandi cose, però queste piccole contingenze hanno un loro ruolo. Ora il problema è qual è il ruolo dell'Europa, quale ruolo può avere. Io credo che il ruolo dell'Europa ormai debba essere semplicemente uno. La prima l'Europa deve guadagnare un'autonomia e un'indipendenza. Cioè il primo cambiamento che condiziona perché ci siano cambiamenti in tutto il resto del mondo, in Iran, in Cina, è un cambiamento all'interno dell'Europa. Cioè, vorrei dirla così, se mi permetti Giacomo, questa butade. Cioè il primo cambiamento è una dichiarazione di indipendenza dell'Europa. Cioè l'Europa non esiste perché non è neanche più uno Stato vassallo, perché i vassalli hanno, cioè è semplicemente un esecutore di ordini, esecutore di ordine di un centro dell'impero che sta perdendo pezzi in tutti i modi possibili. In questa maniera noi siamo trascinati a fare una serie di politiche che non soltanto ci fanno perdere credibilità. Due metri e due misure ormai ci ridono tutti quanti dietro, se uno fa in giro sui siti del mondo, è diventato... ma ha perso la capacità di porsi come mediatore. Questo è successo in Ucraina, si può avere tutte le posizioni che si vogliono sull'Ucraina, ma l'Europa aveva due scelte. Uno schierarsi e diventare parte del conflitto, come è fatto, e quindi non avere più nessun ruolo, oppure svolgere un ruolo di mediatore. Che significava una cosa semplice? C'è un sistema di ordine mondiale che è superato dai tempi, bisogna costruire un ordine mondiale che abbia la caratteristica di garantire sicurezza per tutti. Per gli ucraini, per i russi, per l'Europa, eccetera. Non è stato capace. La stessa cosa la stiamo rivedendo in Medio Oriente e quindi questa c'è una perdita di Europa. Però io credo, se mi permetti, poi... Io credo che alla base di tutto questo ci sia una sorta di arretratezza politico-culturale. Perché le classi dirigenti, di cui la Fondella ha in Borrele, eccetera, vengono da una cultura che è una cultura arretrata. Cioè non riescono a liberarsi dell'idea che noi siamo la punta avanzata dell'umanità. E questa cosa è superata dalla storia. Cioè è la prima volta, in effetti, Giacomo, io credo, nella storia, che l'Europa è una nazione arretrata, è un continente arretrato da un punto di vista culturale, rispetto agli eventi. Questo non era mai successo. Perché l'Occidente era stato imperialista, tutto quello che vogliamo. Però aveva rappresentato sempre la punta di coscienza del futuro. Cioè aveva sempre anticipato il futuro. Quello che sta accadendo oggi è che chi anticipa il futuro non è più l'Occidente. L'Occidente rimane arretrato nell'idea di un mondo unipolare. Unipolare. Pensa ancora, alla base di queste politiche c'è l'idea, secondo cui c'è una concezione della storia. Che è tutta la storia, che tutti i popoli tendono ad europizzarsi. Non è così. Ci sono tutti i popoli del mondo che, la cosa nuova è che stanno cercando una modernizzazione, non rifiutano più la modernizzazione, non rifiutano più la tecnologia, ma vogliono modernizzarsi mantenendo la loro identità. E allora il problema è che l'Europa per svolgere un ruolo, per avere un futuro, deve fare un passo, un passo culturale. Passare da una concezione unipolare a una concezione multipolare e chiedersi qual è il ruolo dell'Europa oggi in un mondo multipolare. Che significa anche rapportarsi agli altri in una maniera diversa. non che gli altri devono diventare come noi, ma come io mi interfaccio, come io entro in relazione con popoli che vogliono seguire una loro traiettoria, che è diversa dalla mia. Questo è un limite culturale che secondo me segna la nostra arretratezza. Indubbiamente, se ti pensi, il discorso dello stesso Borrell sul giardino ordinato, sediato dalla giungla, è quello dalla misura proprio della mentalità colonialista. Mi viene da dire che ancora hanno questi personaggi che comunque continuano a sfuggere ai vertici della politica europea. È un segno dei tempi indubbiamente significativo tutto questo. Io vorrei sentire la tua opinione in merito a una cosa. Noi abbiamo, vabbè, questo conflitto di acutizzazione del conflitto israelo-palestinese, ci scrive in un contesto più ampio che vede una serie di fuochi accendersi in varie parti del mondo. Abbiamo visto per esempio le rinfocolarsi della penisola balcanica, con la mai sopita questione serbo-kosovare, il caucaso, quindi l'Azerbaijan-Armenia, la questione del Nagorno-Karabakh, per l'appunto quella israeliana e poi il conflitto sanguinosissimo russo-ucraino. Insomma c'è un grosso arco di crisi. Vediamo quindi tutta una serie di fuochi accendersi in giro per il mondo in uno scenario che a me, a mia impressione, sembra un po' presentare vari punti di contatto con quello della tarda Belle Epoque, cioè in cui c'erano tutte varie apparenti scaramucce che poi hanno innescato una reazione catena che poi ha condotto l'intera Europa verso quella catastrofe della Prima Guerra Mondiale. A te sembra che ci siano dei segnali di analogia tra questa situazione? Secondo me, io penso che i contesti storici siano sempre unici. Non so se mi senti Giacomo? Sì. Penso che i contesti storici siano sempre unici. Le similitudini possono essere utili, però possono anche essere fuorvianti. Quindi sono più portato a chiedermi qual è la specificità di oggi. In fondo le guerre iniziano sempre tutti con una similitudine, quindi con rumori di sciabole e poi in alcuni casi i rumori di sciabole non danno origine a niente e in altri casi invece danno origine a delle guerre. Il problema è, secondo me, cosa è caratteristico di oggi? E qui bisogna partire, secondo me, da dati. E i dati sono questi. Un riarmo che sta caratterizzando tutti i paesi del mondo. Cioè tutti i paesi del mondo, dalla Cina alla Germania, agli Stati Uniti, all'Iran. Non c'è un paese nel mondo che non stia riarmando pesantemente. Questo lo si vede dall'incremento dei fonti destinati. C'è stato Pistorius in Germania che ha detto che c'è la possibilità di una guerra in Europa. Attenzione, non sta dicendo che c'è la possibilità di un'espansione del conflitto nel mondo, ma che la guerra arrivi sul suolo europeo, intendendo proprio il suolo europeo della Germania. Ora questo lo dice Pistorius, non è una testa calda, è una persona che pesa le parole che dice, chiede che la società si prepari, si strutturi. Il messaggio è stato che dobbiamo prepararci per una sorta immobilitazione complessiva. Questi sono dati, che queste parole poi diventino fatte o non diventino fatte, che dalla corsa agli armamenti si passi alla guerra, non lo sappiamo. L'altro fatto è un crescente incapacità degli Stati di dialogare. Non era successo da moltissimi anni che Russia e Cina non avessero praticamente relazioni diplomatiche. Immaginiamo segretamente dei canali che continuano ad operare, però la maniera in cui i personaggi parlano, in cui parla Putin, in cui parla Biden, è un linguaggio di persone che sono in guerra. Un killer. questi sono fatti. Ci sono dei conflitti aperti. Io temo che il conflitto, la madre di tutte le battaglie, è Taiwan. E probabilmente la Cina non è ancora pronta. Non è ancora pronta non dal punto di di vista degli armamenti convenzionali, ma dal punto di vista della differenza. Però tutto questo è certamente collegato. E certamente collegato è il problema che forse si sta giocando anche rispetto ad alcuni Stati indecisi, che hanno un peso particolare. Qui, per semplificare molto, in questo conflitto ci sono almeno due grandi, tre grandi blocchi che sono in bilico e che probabilmente stanno facendo una sorta di doppio gioco. Il primo è la Turchia. La Turchia che ha una politica abbastanza evidente, che è quella di riprendere l'espansione dell'impero ottomano, più o meno realistica come cosa. E nel far questo gioca, sta facendo la politica dei due forni. A volte facendo anche arrabbiare Putin, che gli ha detto, boh, a volte fare così, fatelo. E anche gli americani. Una potenza debole economicamente, però un esercito del tutto significativo. E questo è indeciso, perché è un paese nato, ma ormai apertamente in conflitto con tutto l'Occidente. Ora, lo spostamento della Turchia non sarebbe insignificante. Quindi secondo me è un periodo di passaggio in cui, in questa c'è la similitudine, ricordo che l'Italia si spostò da una parte all'altra. Quindi l'altra è l'India. È chiaro che l'India, nei BRICS eccetera, però per motivi di confine ancora non risolti con la Cina, non vede di buon occhio un'eccessiva espansione della Cina. Molte cose si... Credo che in quel caso potrà essere risolutiva essere Cina e l'India trovano una soluzione del problema dei confini. E l'altro è il mondo islamico. Il mondo islamico, e questo lo sta vedendo anche in questa crisi medio orientale, è il doppio giochista. Molto spesso fa il doppio gioco sulla pelle dei palestinesi. Perché da un lato noi vediamo dichiarazioni di fuoco da Erdogan a tutti quanti gli altri, all'Iran. dall'altro però l'invasione di terra, Giacomo, è già in atto. Tutti quanti avevano detto il Pakistan se c'è un'invasione di terra forniremo missili balistici. Non li stanno fornendo. Tutti quanti avevano minacciato fuoco e fiamme. Il problema è che cos'è il mondo islamico. Al di là della retorica, eccetera. Se il mondo islamico vuole solo fare una retorica, bruciare un po' di vite, alla fine poche, per i numeri che ci sono, o se veramente voglia ingaggiare un conflitto con l'Occidente. Allo stato attuale mi pare che il mondo islamico non voglia, o non abbia la possibilità, non abbia la capacità militare, neanche l'unità politica. Molto dipenderà da come evolvono i rapporti dentro il mondo islamico. Per esempio il mondo sciita e il mondo sunnita. Sinquanto ci sono troppe divisioni. Quindi stiamo andando verso una guerra. Ci sono tutti gli elementi. Stiamo certamente andando verso una guerra perché quando ci si riarma, quando si tessono alleanze, eccetera, l'ho vista. Che poi questa scoppierà non scoppierà? Probabilmente dipende da circostazioni che possono essere come nella prima guerra mondiale, tutti indipendenti dalla volontà dei singoli… A me comunque il discorso che hai fatto sul mondo musulmano mi è perso interessante. Perché? Perché è vero, questo è molto vero, il fatto che storicamente poi la questione palestinese è stata strumentalizzata come pochissimi altri, i cosiddetti fratelli arabi, tanto perché l'immuno. Quindi l'abbiamo visto. Per cui se mi permetti, adesso in una situazione drammatica, l'Egitta schierati carri armati perché non contro Israele, ma per impedire a questi poveracci che sono imprigionati in una bolla bombardata di passare, cioè sparerebbe sui palestinesi. Sì, sì, ma dopo chiaramente subentrano anche questioni un po' grandi. Il punto è che a me sembra di vedere che ci siano nelle popolazioni, nelle masse islamiche, la questione palestinese venga percepita che abbia una certa importanza, rivesta una certa importanza. E questo in una certa misura obbliga le classi dirigenti molto più smaliziate, molto meno idealistiche, molto più attente ad altre cose, a occuparsene. E comunque dare l'impressione che comunque la pressione palestinese rimane viva. Ricordiamo che fino a non molto tempo fa gli accordi di Abramo avevano portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e una parte del mondo sunnita, quindi dal Marocco alle Emirati Arabi Uniti, Barenne, eccetera. Adesso era il passo dell'Arabia Saudita, che poi ha fatto marcia indietro non appena sono stati fatti del 7 ottobre. Tu credi che questa massa musulmana sia contenibile in generale, anche da parte dei loro stessi governi, perché in un'epoca di capacità comunicative è molto incommensurabilmente superiore rispetto al passato e quindi le informazioni circolano con una rapidità incredibile. Abbiamo visto con quanta l'efficacia delle cosiddette rivoluzioni colorate, tanto per dirne una. Però questo stesso schema potrebbe applicarsi in un'altra forma. Quindi queste masse islamiche, qualora dovessero avvertire un certo tipo di… dovessero ritenere che alcune linee rosse, alcuni limiti sono stati intollerabili, sono stati superati, come questi loro governi riuscirebbero a tenerli a freno, a tenerli a vada? Oppure dovrebbero comunque rispondere all'istanza che vengono dal basso? È difficile, bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Mi limiterei a quello che è più controllabile, cioè come evolverà nessuno può dirlo. Quello che però possiamo dire è che quello che stiamo vedendo in questi giorni, e che i musulmani stanno vedendo, traccerà traccia, secondo me, una linea di non ritorno. Nel senso che per almeno due generazioni queste immagini continueranno a circolare. E sono immagini troppo terribili per essere dimenticate, per essere perdonati. Se non riusciamo a tollerarle noi, che siamo occidentali, io mi chiedo che emozioni, che sentimenti generi in tutto il mondo islamico. Anche la protervia, la prepotenza, le espressioni utilizzate proprio di disprezzo, credo che questo avrà degli effetti per molti anni. Perché è imprevedibile? È imprevedibile per due ragioni, una di natura sociologica e una di natura politica. Quella di natura sociologica è che queste cose generano dei movimenti emozionali e poi di opinione. La maniera in cui si espandono e la maniera in cui poi si traducono in politica, questa è una cosa che non può essere predetta. Probabilmente dipende anche da come reagiranno i politici. C'è anche il fatto che nel mondo islamico ci sono dei regimi che non possono essere rovesciati, né da rivoluzioni arancioni, ma neanche da rivoluzioni islamiste. Perché sono anche esse legate a discendenze che hanno un aspetto simbolico. Quindi per così dire, sono delle nazioni in cui i regime change non sono possibili per motivi interni. E questo fa una differenza, Giacomo. In Arabia Saudita non potrai mai cambiare il regime per motivi interni. Quindi questo non saprei dire. Ma c'è l'altro aspetto che è l'aspetto politico. L'aspetto politico è che qui riguarda Israele e l'Occidente. Perché è chiaro che Israele continua con questa cosa, con questo tipo di atteggiamento aggressivo. Quello che ormai, io non credo che possiamo avere molti dubbi del fatto che siamo davanti a un genocidio. Allora qui abbiamo due possibilità. La guerra o la pace? Cosa voglio dire? Voglio dire che Israele davanti all'attacco di Hamas, che è un attacco esecrabile, terribile, che va condannato senz'altro. Il fatto che sia condannabile non vuol dire che sia caduto dal cielo. Si radica in 70 anni, ma tuttavia possiamo dire che neanche tutto quello che c'è stato in questi atteggiamenti giustifica quell'attacco terroristico. Ma l'attacco terroristico offre, come tutte le cose politiche, non è che implica una sola risposta, ne implica almeno due. Noi avremmo potuto pensare che il governo israeliano, a questo attacco di Hamas, avrebbe potuto reagire in una forma di questo tipo. Chiediamo una conferenza di pace. Chiediamo a tutti i vicini musulmani, gli stati confinanti, di sedersi a un tavolo per trovare una pace giusta. Giusta significa che riconosca i due stati, israele e palestinese, che la finisca con le discriminazioni etniche dentro lo stato di Israele. Troviamo questa pace giusta e duratura. Ci diamo il tempo, perché c'è troppo odio, ci diamo due o tre generazioni, perché questo odio venga dimenticato, quindi chiediamo che ci siano garanzie internazionali che garantiscono questo. Se Israele avesse fatto questo, si poteva fare. Questo è quello per cui secondo me bisogna sempre stare attenti alle contingenze. Ci sarebbe potuta essere una dirigenza israeliana che proponeva una cosa di questo tipo. Questa sarebbe stata la sconfitta di Hamas. Hamas non avrebbe avuto più nessuna funzione storica, perché il problema del popolo palestinese è che il popolo palestinese alla fine sostiene Hamas. Non è vero che non lo sostiene, ma lo sostiene perché non ha davanti nessun'altra possibilità. Il problema di Israele, soprattutto nostro occidentale, è quale prospettiva offriamo ai palestinesi che non sia quella del morire giorno per giorno. Perché se la prospettiva è morire giorno per giorno, preferiranno morire di molto. Questa è una cosa che avrebbe sconfitto Hamas, l'avrebbe posta ai margini. Israele sarebbe presentato con le caratteristiche della credibilità. Questo avrebbe innescato un processo di pacificazione generale. Prima nel Medio Oriente, era una contingenza, ma era una contingenza che era una scelta politica. Il problema è che le contingenze non sono soltanto la contingenza e basta. Cioè bisogna chiedersi perché Israele non l'ha fatto. Perché non è che noi dobbiamo pensare che i dirigenti israeliani non sapevano che esisteva questa possibilità. Lo sapevano benissimo. Il problema è che non l'hanno fatta e non la potevano fare. Perché la pace per Israele ha un prezzo e Israele non lo vuole pagare. La sicurezza ha un prezzo e Israele non lo vuole pagare. E cioè il fatto che i coloni che occupano illegalmente i territori palestinesi dovrebbero lasciare quei territori. Questo è il punto che noi stiamo trascurando, ma che è il vero punto della questione. Cioè una pace sulla base delle risoluzioni ONU, quindi sulla base del diritto internazionale, significherebbe che tutta quella fascia che ha occupato in maniera violenta si è insediata, che gli insediamenti dovrebbero sparire. Perché sono illegali. Questo Israele non lo vuole. Siccome non vuole questo ha una sola chance. Deve cercare la guerra. E deve cercare la guerra sino a radicare la popolazione palestinese. Cioè non è vero come qualche geopolitico pensa che Israele non abbia una strategia. Israele ha una strategia molto precisa. La strategia molto precisa è che gli insediamenti devono diventare legali. Quello deve diventare stato di Israele. Questo è il punto della questione, secondo me. Il resto sono favolette che possiamo raccontarci o non raccontarci. Sì, sì, ma io sono d'accordo. Io sempre anche basta guardare, per esempio, quando Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite si presenta con una mappa del Medio Oriente in cui Israele, i confini di Israele, comprendono sia la Cisgiordania, per intero, che Gaza, sta mandando un messaggio piuttosto chiaro. Il primo ministro che l'ha fatto e l'ha fatto prima dei fatti del 7 ottobre. Quando addirittura il suo ministro delle finanze, Smotrich, personaggio piuttosto inquietante, si guarda un palco a Parigi e su questo palco è allestita una mappa di grande Israele in cui nei confini israeliani, ci sono, rientra intera Giordania addirittura, quindi la parte a est del Giordano, più alcune parti dell'Egitto e della Siria, stanno mandando un messaggio molto chiaro. Cioè, quantomeno la Cisgiordania e la striscia di Gaza devono diventare territori israeliani. E la stessa manovra di sgombero del nord di Gaza, a cosa prelu? E spingere, incrementare la pressione sull'Egitto affinché apre il valico di Rafa, per poi magari scaricare… Sicuramente prendeteveli voi e questi territori diventano territori vuoti. C'è l'idea di genocidio, di pulizia etnica, sta passando attraverso l'ordine di evacuazione o di sgombero, che forse è più preciso, in modo… Allora, c'è questa cosa. Se la cosa è questa, bisogna effettivamente vedere quanto i paesi islamici confinanti, sono disposti a tollerarlo, perché comunque viene messa in discussione anche la sicurezza di ognuno di essi. Lì probabilmente c'è un problema anche militare, perché questi paesi non è soltanto… Sanno che hanno una debolezza militare, davanti non soltanto all'apparato bellico israeliano, che tutto sommato abbiamo visto che non era così… Cioè, una cosa è che non è che si può fare… Ecco i carri armati, sparare sui bambini che tirano pietre, però se devono combattere da uomo a uomo non ce la cavano così bene, però hanno una potenza bellica enorme in termini di aerei… Cioè, quello che stiamo vedendo è gente che comunque usa armi un po' anche caserecce e gente invece che ha una flotta aerea di bombardieri in mane, che ha una flotta di mati in mane, soprattutto che ha un ponte aereo di munizioni praticamente infinito. Quindi gli stati arabi sanno che non hanno chance con due porta aeree americane lì. C'è una cosa che potrà fare la differenza. Questa è una domanda che probabilmente è un po' accademica, magari un po' complottista. Il problema è quando ci saranno degli stati musulmani che saranno potenze nucleari. Oggi ne esiste una, che è il Pakistan, che però ha elementi di debolezza, sin troppo ovvi e anche ha una preoccupazione di non esposizione perché comunque ha un conflitto con l'India. Mentre Israele sappiamo che è una potenza nucleare ed è l'unico stato al mondo che non esiterebbe a usarla, proprio perché fa parte del suo modo di infrontare gli altri, chi sono gli altri. Il problema è anche se ci saranno stati musulmani che riusciranno a impossessarsi della guerra, di una potenza nucleare. Ora in questa cosa, tu dicevi bene, tutte le cose si legano. Si legano non perché ci sia un piano generale a tavolino. Si legano perché poi ognuno cerca di rafforzare se stesso. Una delle cose che è accaduto è che l'Iran ha trovato un supporto forte nella Russia. Perché noi abbiamo insistito molto sul fatto che c'erano i voli che dall'Iran andavano in Russia portando armi in Russia. Io mi sono chiesto, ma su questo non ho capacità particolari, tu ne sai molto più di me, mi sono chiesto, ma quando si viaggia e si porta qualcosa, per un'economia banale, mica si ritorna con gli aerei vuoti. Magari questa è una pura speculazione senza senso. Io non credo che l'Iran abbia fatto tutto questo per amore della Russia. Qualcosa in cambio deve aver preso. Io non ho elementi, però credo che si stia creando una struttura. Secondo me non siamo alle soglie di una guerra, però siamo dentro una situazione in cui ognuno pensa che la guerra, prima o dopo, sarà inevitabile. Io penso che tutti ormai, molti stanno entrando, quindi anche i paesi arabi, musulmani, quelli più moderati, tutti stanno entrando nell'ottica secondo cui occorre un nuovo ordine mondiale. Questo nuovo ordine mondiale non si realizzerà in maniera pacifica con una grande conferenza, si realizzerà attraverso le armi. È una cosa terribile questa, è una cosa terribile però dentro questa cosa ognuno sta preparandosi. I cinesi si stanno preparando, incrementando in una maniera vertiginosa non solo l'armamentario convenzionale, ma l'armamentario di deterrenza nucleare, perché sanno che quello è un punto di debolezza. L'Iran si sta preparando, tutti si stanno preparando. Cosa potrebbe bloccare questo meccanismo assurdo e perverso? L'Europa. Un'Europa che prendesse coscienza di se stessa, del proprio ruolo, anche dell'assurdità in cui stiamo andando, potrebbe svolgere un ruolo essenziale in questo momento storico. In questo momento non c'è questo tipo di speranza, però già come ogni tanto facciamo anche gli speranzosi, si voterà presto per il rinnovo del Parlamento e con tutta probabilità non accadrà nulla. Però dobbiamo anche pensare cosa significherebbe un Parlamento con una maggioranza di persone che la possono pensare molto diversamente su tantissimi punti, dalle politiche sociali ai diritti civili, ma su un punto unificati, che l'Europa deve riguadagnare autonomia, autorevolezza e giocare un ruolo. Questa sarebbe una rivoluzione. Non penso che accadrà. Però se in Italia tutta quella cosa dispersa, quella nebulosa, invece di fare l'analisi del sangue, trovasse un punto di convergenza su pochissimi punti, forse potrebbe essere un piccolo inizio. Quello in dubbio. Sono sempre stato dell'idea che è più importante cercare di vedere dove si va, se si vuole andare insieme, da dove si viene. Per quanto le origini rimangano importanti. Però su questa speranza chiudiamo questa discussione che come al solito mi è piaciuta molto. Io Vincenzo ti ringrazio. Spero che tornerai a parlare con me se ci saranno l'opportunità, perché qui i fatti non riusciamo a stargli dietro. Le dinamiche sono accelerate e sempre difficili. Con questo colgo l'occasione per augurare buona serata a tutti. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Gentile utente, voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che il contesto si regge unicamente sulle mie forze, oltre che sull'apporto volontario fornito dagli esperti che accettano di confrontarsi di volta in volta con me. Ti invito pertanto a valutare la possibilità di sostenere attraverso un contributo commisurato alle tue possibilità e al giudizio che affibbia il mio lavoro, questa attività che per quanto piccola sta crescendo rapidamente nonostante le mie ancora scarse, se non scarsissime, abilità tecniche che comunque conto di affinare grazie anche al tuo sostegno. Trovi in descrizione i link utili per accordare il tuo supporto al contesto e, oppure se preferisci, acquistare i miei libri. Grazie e buona visione.